Le magiche atmosfere di una festa medievale sono state rivissute nel Parco San Martino di Via Serradello, sulla strada che collega Sarezzo a Polavino. Dame, cavalieri, antiche botteghe di fabbri ferrai, tessitrici, falegnami, armaioli ed altri sapienti artigiani hanno trasformato il parco in un borgo d'altri tempi. Per i visitatori un tuffo nel passato. Nella ricostruzione storica la compagnia d'arme, maghe e fattucchieri passeggiate a cavallo e vera cucina del Medioevo. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è stata promossa dalle sezioni della Lega Nord di Sarezzo, Polavino e Lumezzane, Armando Signorini del comitato organizzatore. Abbiamo cercato di ricreare in questo meraviglioso parco un villaggio, il borgo di San Martino, un villaggio medievale aiutato dall'associazione dei saggita imperiali, dei lupi neri e dei saggitari treviade. In questa festa abbiamo avuto anche degli spazi politici con numerosi ospiti che sono intervenuti. Abbiamo avuto molti momenti e molti intrattenimenti da parte di questi gruppi di rievocazione storica. È stato un grosso successo di affluenza, di pubblico e la gente è restata molto soddisfatta perché ha visto in questa festa, oltre che l'aspetto politico, anche l'importante aspetto storico. Aspettando l'ottava luna era il titolo della rievocazione che si è snodata nell'arco di tre giorni. I densi di appuntamenti e iniziative non sono mancati il tiro con l'arco, il battesimo della sella e la giostra finale con la sfida tra cavalieri. Chi vuole accompagnare il fortissimo e corattosissimo il poverito?